In uno sport come il futsal, che come obiettivo finale ha quello di fare gol, quelli che risaltano agli onori delle cronache sono sempre quelli che hanno come dote il saperla gonfiare quella rete. Eppure in questo servizio vogliamo parlarvi dell'altro lato della medaglia. Quelli che appaiono poco ma che sono imprescindibili per l'economia della squadra e per la buona riuscita delle manovre in fase d'attacco. Li chiamano i gregari del mestiere, vedono poco la porta, ma sono maestri nello spianare la strada a che di mestiere poi sa fare quello, fare gol. Non sanno metterla a giro sul secondo palo o mandare la sfera nel sette, ma solitamente hanno quattro polmoni, due motori al posto delle gambe ed un'anima sportiva immensa in cui contengono quella di tutta la squadra. Giocatori come il gregario del futsal bitonto 2019 Gigi Palermo. Il laterale natio di Giovinazzo, infatti, è uno dei lavoratori instancabili di questa squadra. Corre come un forse nato a tutto campo alla ricerca continua della sfera o dei spazi da aprire per l'inserimento dei suoi compagni. Recupera padoni in quantità, ripiega tassativamente in maniera difensiva sull'avversario diretto verso la porta e talvolta si è quasi dispiaciuti nel vederlo essere fermato di forza da un cartellino rosso consegnatoli per eccesso di fuoco negli interventi. Gesta, queste, che fanno dei Gigi Palermo uno dei giocatori fiamati dalla tifoseria per lo spirito battagliero e la voglia di non gettare mai la spugna. E, sarà anche uno che è di mestiere per caratteristiche non bomber, però ha quattro reti sagionali e comunque è riuscito a metterli a segno, tra cui un gol splendido in slalom contro il Barletta nella gara di Coppa. Quantità, sostanza, poco spettacolo, ma tanti risultati, sempre col sorriso. Lo stesso sorriso col quale si presenta in campo assieme al suo migliore ed inseparabile amico Sergio De Civis. Perché tutto questo è Gigi Palermo, uno di quelli che è uno sport che come fine a quello di fare gol dà all'ustre le figure di quelli che si vedono poco, ma contano tanto e sono fondamentali per perseguire obiettivi che profumano di storia. Grazie a tutti.